Lo dico io in ogni momento, chiudi gli occhi, al mio tre chiudi gli occhi, uno, due, tre, chiudi gli occhi, dormi, tu stai dormendo, rilassati, dormi, 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 quando te lo dico io, tu ti sveglierai, chiudi gli occhi, dormi, oh oh no, dormi, shh, rilassati, russa, russa, al mio tre tu ti sveglierai, ok, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, uno, due, tre, sveglia, ti ricordi qualcosa? Tutto quello che è successo ti ricordi qualcosa? Non morire, non morire, no, di ciao a tutti, è esperimento riuscito? Ciao!